Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 a rallentamenti per traffico tra Calenzane e BV1 Variante in direzione di Bologna. Regolare il traffico altrove. Uno sguardo alle statali per lavori sul raccordo Siena-Firenze, dal lunedì 24 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata per un tratto di circa 3 km tra Badesse e Siena Nord. Lo svincolo di Badesse sarà temporaneamente chiuso in ingresso in direzione Siena fino al completamento dei lavori previsto per il 9 ottobre 2018. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario e informiamo che le biglietterie di Rosignano e Campiglia quest'oggi sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Bristol delle 14.35 è il momento segnalato in partenza e in ritardo alle 15.05. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!